Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo il rostro di bianco bizantino da una source di 10 cento scritta da un autore di Lungo Bardotor, Luthbrand Bishop of Cremona. Iniziamo con gli ingredienti. Potremmo un legno di bianco, olio d'oliva, olio, carino, carino, lix e garum. Puliamo tutti i carino e cortiamo due olio e un grande lix. Prima grazie di nuovo per il vostro supporto sul Patreon. Questa settimana trovate una nuova traduzione di un testo scritto da un paio di centurie prima della source che usiamo oggi. Un libro interessante sulle frutte e preservazioni di ruta, attribuito a Ioannes Damascenus, con una selezione di altre ricette simili, da Columella, la Rea Rustica, all'Antidotarium Nicolae medieval. Trovate il link nella descrizione qui sotto, con i link per comprare il nostro nuovo libro, La cucina antica romana, che contiene informazioni sulle source, gli ingredienti e i metodi, in additione a molte ricette. La scuola che usiamo oggi è una lettera divertente e interessante scritta da Ioannes Damascenus per l'Empere romano, Otto I, della Relatio Delegazione Costantinopolitana, che rappresenta i misadventure di Ioannes Damascenus durante la sua missione diplomatica nel corso dell'Empere bizantino Nicéforus. La missione consiste in chiedere dell'Empere la mano di Princesa Teofanu per la sua figlia di Otto, il futuro emperore Otto II, ma la proposta è messa con una ostilità che il brand non aveva visto. È il anno 968, solo un po' di anni dopo la coronazione di Otto come solo emperore romano, e la relazione politica tra l'Empere di Otto e Nicéforus è molto tensa. Per conseguenza, l'Utbrand trova himself trattato come un giocatore, in un mondo in cui molto poche persone parlano latino, qualcosa che il bishop non aveva aspettato, essendo questa sua seconda missione in Byzantium. ma, ancora meno, ha aspettato un emperore come Nicéforus, vividamente e offensivamente descritto nella sua lettera a Otto, come una sorta di maestro deformato, che fa cose disgustanti e preferisce l'acqua al buon vino. L'intento dell'Utbrand, chiaramente, è solo insultare l'Empere, comunque la descrizione è abbastanza divertente. Un po' molto piccolo, monstruoso, con una piazza fatta e mora così piccolo come molte, disfigurato con una piazza corta, broad, profonda, half-bio, un uomo con un cuore non più lungo che un cuore, con profondi profondi sull'uomo, profondi profondi sull'uomo, un cuore lungo in relazione con la sua stature, piccoli piedi, calvi e piedi della stessa maggiore, con vecchi flaxi e bianchi, sceglie dolore, sceglie dolore e sceglie con timo. Ovviamente tutto il contrario dell'Empere L'Utbrand, grazie per l'autore con parole eccessive. Sceglie dolore in una piazza con le lecce, lecce e lecce, e una generosa quantità di olio e garum. Per questa ricetta abbiamo usato il garum che abbiamo preparato recentemente, usando una ricetta di 10 cento di gioponica, circa il stesso periodo della missione diplomatica di L'Utbrand. Trovate il link al video nella descrizione sotto. Come dicevamo, la lettera scritta da L'Utbrand è adattata all'Empere Otto, e il bisopio menziona garum senza spiegare il significato del termine. Questo è molto importante per noi perché significa che nel 10 secolo garum era ancora conosciuto, e probabilmente usato, nella parte occorre dell'Empire romano. In ogni caso, il garum e l'arabico variante del garum, chiamato Murri, continuano a essere usati e producati in alcuni paesi mediterranei per un lungo tempo dopo la sua disperanza in altri paesi europei, includendo l'Italia. Aggiungiamo l'arabico del garum per circa una e mezza di ore, ma il tempo può cambiare, depending on the size. Aggiungiamo l'arabico del garum. Questo rastro è uno dei piatti serviti a L'Utbrand per rinnovare con l'Empere. Nicephoros stesso lo mangia con entusiasmo, e L'Utbrand è assicurato che piace molto così un piatto povero. L'arabico, l'arabico e l'arabico sono piatti plebeiani, secondo L'Utbrand, non suitabile per l'arabico imperiale, ancora più perché considerato da l'Empere una delicata. L'arabico originale descrive come tutti i piatti serviti con l'arabico, l'arabico e l'arabico. Abbiamo scelto di preparare solo l'arabico. In ogni modo, se preferite, puoi fare tutti i piatti serviti, seguendo la stessa metoda. Sicuramente questa piatta non sembra come un piatto imperiale, ma è abbastanza buona, in realtà. Per seguire la descrizione di L'Utbrand, l'arabico e l'olio, ma in questo modo l'arabico si trova abbastanza salto. Per ottenere una piattaforma migliore, vi suggeriamo di utilizzare solo un po' di garum e un po' di olio di oliva. L'arabico, inoltre, è abbastanza buono per necessarmi una addizione scura di fatti di più. per il loro cuore. Un'altra buona addizione potrebbe essere alcune spezie mediterranei, non descrizione da L'Utbrand, ma presenti nei libri bizantini dietetici. Per esempio l'Antimus, l'Observazione Ciborum. Fennel, ciumino, coriandolo o sede di rinni sarebbero perfetti con questo piattaforma. Aggiungiamo l'arabico e lo serviamo con l'olio, l'olio e l'olio. In conclusione, questo piattaforma è un piatto semplice, non rifinato e sicuramente non di delicata, ma buono comunque, in questo modo, inoltre le risposte derogatorie da L'Utbrand, sicuramente vale un provo, possibilmente aggiornato con buon vino e un po' di grado greco, per esempio l'Arto Laganon. Trovate il link al video nella descrizione qui sotto. Se siete interessati nei fratelli e fratelli antichi, abbiate il nostro canale e considerate il supporto in Oson Patreon. Grazie. Grazie.